salve a tutti allora a gran voce mi avete chiesto un video sulla valutazione me lo avete chiesto in tanti nei commenti che devo dire sono sempre molto ben accetti molto alcuni anche molto dolci stimolanti per me e insomma quindi avevo detto questa mattina ho risposto che a breve sarebbe uscito il video io penso che tarda serata dovreste poterlo vedere allora diamo subito al nocciolo la valutazione scolastica viene regolamentata dalla legge 107 del 2015 vabbè articolo 1 comma 180 181 come ben sapete non scrivo tutto anche perché alcuni di voi mi ascoltano e magari ripassano oppure approfondiscono determinate argomentazioni senza dover per forza leggere successivamente sono usciti dei decreti legislativi quali il decreto legislativo 62 del 2017 e il decreto legislativo 66 sempre del 2017 stesso anno che hanno modificato il dpr del 22 06 2009 non ce lo scrivo però c'è stato un profondo cambiamento relativamente a determinate questioni allora come saprete nella anche per per come hanno riportato alcuni dei vostri colleghi le esperienze fatte in questi giorni di concorso sapete che l'utilizzo dei caratteri per la prova scritta computer based basata sul computer essenzialmente è limitato quindi non potete scrivere tantissimo cerco di rispondere ad altre domande che magari potrebbero sorgere ad altre persone è facile si possono inserire tabelle no si possono scrivere appunti no perché dovete portare l'attestato di pagamento la carta il documento di riconoscimento verrete fatti sedere davanti a un computer leggerete i quesiti non avrete molto tempo per rispondere a tutti quindi secondo me il problema che l'inserimento del numero dei caratteri limitato non si vorrà rispetto al 2016 c'è un peso devo dire marginale per quanto riguarda l'inglese perché l'inglese conta veramente poco mi sembra solo 5 punti in un altro video insomma abbiamo analizzato questo aspetto è fondamentale cioè la maggior parte delle persone che sono state bocciate il concorso 2016 e ne è stata bocciata più di un 50% eravamo di abilitati fatemi ricordare nel concorso a cattedra eravamo circa 200.000 di abilitati nel 2016 c'erano 44.000 posti siamo passati in poco più di 20.000 molte persone sono state bocciate perché hanno lasciato in maniera molto corretta però anche poco strategica alcune risposte in bianco perché non le sapevano allora la risposta in bianco significa automaticamente 0 punti qualora voi doveste trovare una commissione comprensiva anche se una risposta magari non la sapete per bene comunque qualcosa scrivetela non fate i perfettini che è tutto perfetto oppure la risposta non si dà perché a quel punto se non riuscite poi se non date uno o addirittura due risposte o colleghi che hanno fatto questa scelta e poi magari anche che fate tutto perfetto però non vi viene non vi viene dato il massimo di punti ad ogni ad ogni quesito poi rischiate di essere bocciati perché sapete che la regola dei 7 decimi e dei 21 trentesimi è una regola insomma che è necessaria per la promozione ovviamente il sistema di valutazione del servizio scolastico è un'operazione molto complessa perché vengono coinvolti una pluralità di soggetti e vengono anche considerati una molteplicità di aspetti che contribuiscono a determinare il risultato il risultato che poi è il voto il punto il punteggio è un numero però dietro quel numero ci sicuramente si celano tantissime una pluralità di aspetti ci sono diversi autori diversi ricercatori tra cui il masaccio che vanno a trovare a cercare a evidenziare quali sono le fondamenta delle azioni valutative quindi la valutazione ha e questo se vi viene chiesto qualcosa in merito alla valutazione senz'altro glielo potete dire cioè almeno quello che sto scrivendo sicuramente fa cioè mette in luce le vostre conoscenze e anche competenze relativamente alla valutazione ha sicuramente una finalità formativa perché aiuta alla formativa se scrivo e passo mentre parlo passo all'argomento successivo ho qualche difficoltà vi chiedo scusa perché sicuramente è fondamentale per la formazione dello studente ci deve essere una coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsto nel piano di lavoro quindi la valutazione deve essere coerente mettiamoci coerente ok un altro aspetto è che la valutazione deve tener conto del processo di apprendimento e del risultato è fondamentale essere equi e trasparenti questo ve lo dico ha riflessi anche sulla gestione della classe qualora e lo potete anche dire volendo qualora noi siamo dei modelli all'interno della classe siamo purtroppo anche chiamati a fare dei giudici io ho ad esempio volutamente evitare di fare il giudice in questo concorso che avrei potuto fare il commissario non l'ho voluto chiedere anche perché io poi ho difficoltà sono troppo buono e probabilmente avrei sbagliato perché io non riuscirei a bocciare nessuno non avrei bocciato nessuno dei miei colleghi l'equità e la trasparenza è fondamentale anche per il rispetto che la classe poi avrà nei confronti del docente perché se capiscono che è tutto uno scherzo che è tutto un gioco che i voti vengono dati senza meritocrazia ovviamente viene discreditata l'azione del docente perché ovviamente parliamoci chiaro molti studenti e molte famiglie poi sono anche decisamente legate alla valutazione e al risultato quindi noi sappiamo che la scuola è molto di più di un voto la cultura, l'apprendimento i percorsi di apprendimento sono molto di più di un voto ma non tutti lo capiscono quindi è fondamentale anzi questo ve lo metto in risalto essere equi l'equità e la trasparenza sicuramente bisogna essere rigorosi c'è bisogno di un regore mettiamo metodologico poi possiamo cominciare a dividere la valutazione per classi per esempio possiamo dire che la valutazione può essere divisa in interna e valutazione esterna e andiamo a dire le peculiarità dell'una e dell'altra la valutazione interna è il processo di apprendimento dell'alunno quindi apprendimento studente ad esempio un altro tipo di valutazione interna è l'autovalutazione dell'istituto per esempio la soddisfazione degli alunni allora siccome io mi sono formato per tanti anni sono tantissimi anni che sono all'università vi dico che per esempio io ho sempre amato a fine corso fare dei questionari nei quali potete pure ritrovarli in rete nei quali essenzialmente cioè poco prima insomma che no che finisse l'anno perché io dovevo avere la possibilità anche di correggermi verso metà anno io sicuramente è stato un onere in più però ho ritenuto professionale distribuire dei questionari ovviamente anonimi a tutta la classe nei quali chiedevo tanti aspetti caratteristici relativamente alla soddisfazione della materia consegnato la facilità di comprensione di come spiegavo delle metodologie didattiche se ritenevano il carico di esercizi di impegno dopo scuola se era eccessivo essenzialmente ho fatto anche dei questionari che mi permettevano anche di che permettevano agli studenti di diventare parte attiva e di poter anche valutare il docente devo dire che ad oggi nella scuola secondaria di secondo grado ne conosco pochi di docenti che hanno deciso insomma di far come me però io credo che sia anche una questione di umiltà di rispetto e di desiderio sempre di volersi migliorare per quanto riguarda invece gli strumenti di valutazione interna esistono le schede di valutazione quadrimestrale o trimestrale alcune scuole fanno il trimestre e il pentamestre quindi scriviamo solo schede di valutazione poi sicuramente uno strumento di valutazione interna è costituito dalle riunioni formali mensili o bimestrali del consiglio di classe del collegio dei docenti quindi tutte le riunioni formali le prove e le verifiche somministrate dai docenti e agli alunni quindi prove e verifiche gli incontri con la famiglia allora vi chiedo scusa volevo sto guardando adesso la slide come la sto compilando allora siccome siamo in diretta live e non voglio eliminare non voglio tornare indietro ed eliminare il tutto in realtà io qui stavo parlando più specificatamente degli strumenti della valutazione interna non ero ancora andato alla valutazione esterna quindi io qui scrivo strumenti valutazione interna adesso qui tratto la valutazione esterna vi chiedo scusa se per l'errore sto cercando un pochettino anche di accelerare il processo di stesura del video della slide e sono entrato pure io in confusione in ogni caso colgo l'occasione per dirvi anche voi quando starete al concorso potete tranquillamente cancellare non so se sono abilitati i tasti copy and call CTRLC CTRLV o il tasto destro del mouse questo ancora non lo so sinceramente non me lo ricordo credo anzi credo che di averlo usato non sono sicuro poi vi dico un'altra cosa potete tranquillamente passare da un quesito all'altro quindi suggerimento scrivete fate tutto velocemente poi potete tranquillamente ritornare su un quesito dove avete dubbio potete andare a correggere potete fare tutte queste cose spero di essermi fatto perdonare dicendovi queste altre informazioni per quanto riguarda invece la valutazione esterna che ha caratteri anche di confronto nazionale no sono caratterizzate per esempio dalle prove a invalsi che sono quindi delle prove nazionali che vengono svolte solitamente a fine anno nelle classi seconda e quinta della scuola primaria ricordatevelo nella terza classe della scuola secondaria quindi vengono ve lo ricordo ma sicuramente i miei colleghi voi i colleghi già lo sapete esse vengono rivolte alle discipline di italiano e matematica nella classe seconda nella scuola primaria mentre in quinto in terzo rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado le discipline coinvolte sono italiano matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum quindi sono correlate alle indicazioni nazionali per il curriculum in passato in passato nei propri invalsi del terzo anno erano parte integrante dell'esame di stato adesso non lo sono più ma rappresentano sicuramente un momento del processo qualitativo conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico diciamo che tutte queste cose possono essere sicuramente scritte ma per la prova straordinaria ma sicuramente potrebbero essere anche delle domande per il concorso straordinario qualora dovessero esserci dei quiz e sicuramente sono anche delle prove indispensabili per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione allora inserisco qualche altra considerazione e poi diciamo che finisco qui se poi voi nei commenti volete aggiungere altro o mi chiedete di fare una trattazione più approfondita io sarò lieto però badate sempre che ovviamente io sto cercando in questo periodo di assicurarvi un video al giorno se approfondisco un argomento ovviamente per esempio oggi cerco di fare un video sulla valutazione ma non so penso proprio di no di non essere in grado per motivi essenzialmente di organizzazione temporale di fare un video ad esempio sulle metodologie didattiche che mi era stato chiesto per esempio mi sono state chieste le mini UDA i voti numerici attribuiti alla valutazione sia di fine trimestre pentamestre quadrimestre e della valutazione finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni queste sono considerazioni i voti vanno riportati vanno scritti come numero e come lettere i voti sono riportati in simboli ed esplicitate in lettere la valutazione da adesso in poi dico quadrimestre però per chi ha il trimestre e il pentamestre è la stessa cosa quadrimestrale riportata sulla scheda della scuola secondaria di primo grado comprende sia la valutazione formativa che la valutazione sommativa quindi questo solo per quanto riguarda scuola secondaria scuola scriviamo così scuola secondaria primo grado alla fine del quadrimestre il voto comprende sia la valutazione formativa che la valutazione sommativa quindi formativa più sommativa ah mi avete chiesto la mar vi ho detto che io ho come tavoletta grafica la Wacom mi avete chiesto il modello ogni tanto adesso mentre parlo mi ricordo qualcosa di tutti i commenti che mi avete lasciato si chiama Wacom Intuos devo dire che mi ci sto trovando molto bene è precisa io per motivi di praticità ho usato diversi programmini poi il mio office dovrebbe essere 2020 l'ho comprato e mi trovo benissimo insomma con powerpoint quindi come software uso questo perché devo dire che comunque la struttura di questi video di questa lavagna di questo video che vedete è molto semplice sto cercando di dare un grande valore alla parte contenutistica non agli effetti grafici o scenografici per quanto riguardano le linee guida della valutazione dei livelli di apprendimento esse sono rappresentate dalle indicazioni nazionali ricordate sempre per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e vengono diramate dal MIUR nel 2012 ricordate che anche per coloro che fanno il concorso musicale la valutazione con voto numerico riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale voto numerico anche per strumento musicale ovviamente lo ripeto già l'ho detto i docenti di sostegno con titolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni il docente di sostegno è il docente di sostegno della classe ovviamente non è che decide il voto il docente della materia che ne so io insegno meccanica e decido questo ragazzo c'ha 7 ricordate sempre che io porto una proposta di voto il consiglio di classe me la approva e quasi sempre avviene così qualora non dovesse approvarla si va a maggioranza qualora la maggioranza dovesse essere divisa in due parti simmetriche uguali quindi il 50% vota sì il 50% no solo in quel caso il voto del dirigente scolastico o di chi ne fa le veci vale doppio e quindi una soluzione in ogni caso si trova sempre per quanto riguarda la valutazione in itinere o finale dello studente quindi l'insegnante di sostegno partecipa insegnante che per tanti anni è stato considerato anche l'insegnante di serie B colui che non faceva niente adesso spero che le cose stiano cambiando l'insegnante di sostegno partecipa attivamente alla valutazione di tutti gli studenti della classe degli studenti della classe anche perché è quello che nella classe diciamo tolta la scuola materna dove addirittura ce ne sono stati 25 di ore però là si parla di di sezioni giusto? voi fate ci sono le intersezioni le sezioni adesso non me lo ricordo a memoria comunque per quanto riguarda la classe l'insegnante di sostegno nelle altre ordini dei gradi comunque passa ben 18 ore quindi praticamente tutto l'orario lavorativo in presenza a scuola lo passa con gli studenti e quindi l'insegnante di sostegno è dovuto a deve seguire tutti gli studenti BES anche cioè sicuramente gli viene assegnato un alunno H con 104 però deve seguire tutti gli studenti che hanno bisogno deve essere comunque deve partecipare magari per fare prima per svolgere magari più rapidamente le parti burocratiche della lezione può fare l'appello mentre l'insegnante l'altro insegnante spiega deve comunque assicurarsi che tutti stiano comprendendo deve comunque sicuramente partecipare facilitando l'azione la mediazione didattica del docente ovviamente c'è una compresenza con gli insegnanti di sostegno altre volte gli insegnanti di sostegno come ben sapete viene utilizzato anche per fare delle supplenze anche se questo dovrebbe capitare di rato ovviamente può capitare anche vi dico questa peculiarità se un alunno disabile è affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un unico voto ovviamente non è che possono essere dati voti multipli la missione di stato è disposta sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno è in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel PTOF con un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6 decimi forse molti di voi non lo sapevano ma si può essere ammessi anche con un voto inferiore alla sufficienza il voto finale infine viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuita alle prove iscritte al colloquio durante l'esame di stato se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore come funziona per l'arrotondamento in matematica e in fisica e in chimica bene con questo io desidero finire vi auguro una buona continuazione di giornata una buona continuazione di studio per tutti quelli che stanno studiando vi faccio sempre un grandissimo bocca al lupo e ci vediamo a breve un saluto un saluto un saluto